Due anni fa, in una striscia satirica sul misfatto, Stefano Disegni raccontava la storia di un tizio che scippa la borsetta a una vecchina. Lei grida al ladro e il ladro denuncia subito il giustizialismo delle parole della vecchina, intanto perché il ladro è un presunto innocente, insomma non c'è ancora la Cassazione, e anche gli accenti di giacobinismo che lasciano trapelare un'antica voglia di giustizia sommaria. A quel punto interviene un signorino occhialuto e azimato, tipico esponente del PD, una specie di incrocio fra Enrico Letta e Gianni Letta, che invita entrambi i contendenti a abbassare i toni, a fare un passo indietro in nome del bene comune perché dice non è con l'anticipismo preconcetto e viscerale che vinceremo le elezioni, anzi è proprio l'anticipismo che rafforza gli scippatori. Poi propone un dialogo costruttivo fra lo scippatore e la scippata, istituendo un'apposita commissione di saggi dove invitare il ladro e la derubata a un confronto tematico. Intanto il ladro si dilegua con la refurtiva. L'attuale clima politico, superati i vecchi schemi comunismo-fascismo-anticomunismo-destra-sinistra-legalità-impunità, sta dividendo tutto e tutti in Italia in due nuove categorie, i divisivi e i condivisi. Il bene naturalmente è condividere comunque, a prescindere. Se poi quella cosa da condividere è una cazzata o una porcata, non importa. Se uno si permette di non condividerla, viene subito denunciato come un terrorista, un disturbatore, un sabotatore della pacificazione. L'altro giorno, per esempio, il Consiglio Comunale di Cecina in Toscana doveva intitolare l'aula consigliare a un'eroina della resistenza partigiana, Primetta Cipolli, ma il PDL si è opposto perché non c'è nulla di più partigiano dei partigiani. Naturalmente la resistenza è divisiva e quindi il centro-sinistra, nell'ambito di questo clima di pacificazione, si è calato alle brache e a questa poveretta Cipolli, anziché l'aula consigliare, hanno dedicato uno sgabuzzino al primo piano. E in effetti non c'è niente di più divisivo della resistenza dove gli antifascisti, già nella parola anti, denunciano questa loro natura divisiva, combattevano i fascisti addirittura con le armi in pugno. Ma che sarà mai la storia? No, la storia si può sempre riscriverla a proprio piacimento secondo le convenienze. Due mesi fa, appena eletto Presidente del Senato, Piero Grasso ha inaugurato praticamente la pacificazione dicendo la nostra Costituzione è figlia di tre culture, quella liberale, quella socialista e quella monarchica. La Costituzione è repubblicana, figlia della cultura monarchica, dimenticando la tredicesima disposizione transitoria e finale che addirittura esiliava i Savoia. Siccome era una disposizione divisiva, lui se l'è dimenticata, rimossa. Secondo voi perché hanno fatto premier proprio Enrico Letta? Perché non è divisivo, anzi è impossibile dividerlo proprio da suo zio Gianni. Quindi è condiviso, è un Letta condiviso almeno da Berlusconi. Perché una cosa per essere condivisa nell'Italia di oggi deve piacere a Berlusconi. Se invece non piace a Berlusconi ma piace puttacaso a Grillo che ha preso gli stessi voti allora non è condivisa, anzi è divisiva. Perché Rodotà e perfino Prodi sono stati ritenuti inadatti perfino dal PD a diventare Presidenti della Repubblica? Perché sono divisivi, cioè non piacciono a Berlusconi perché conoscendolo l'avrebbero tenuto lontano, diviso dal governo. Invece Napolitano, che Berlusconi lo conosce anche lui molto bene l'ha tenuto molto unito, molto dentro direi proprio al governo. Anche la Corte d'Appello di Milano che ha condannato Berlusconi a 4 anni di reclusione e a 5 di interdizione sul caso Mediaset per fraude fiscali è divisiva. Perché? Perché ha aperto una pericolosa spaccatura fra gli italiani che pagano le tasse e quelli che non le pagano. E allora divide. Come divisiva? Divisive sono le figlie di Enzo Tortora che l'altro giorno hanno ricordato a Berlusconi piano con gli accostamenti perché nostro padre ha rinunciato all'immunità parlamentare per farsi processare al contrario di qualcun altro e lui ha detto fareste meglio a tacere in fondo lui si accomuna, sente vicino a Tortora non tanto per il processo quanto per l'importanza che nella carriera dei due ha avuto l'elemento ornitologico. Ora però tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per la pacificazione nazionale. Faccio qualche esempio di comportamenti unificanti e non divisivi nella vita quotidiana. Primo esempio. Siete in auto, fermi al semaforo, un pirata della strada ubriaco col babottia di whisky da una parte e il telefonino dall'altra vi tampona, vi entra proprio dentro incendiandovi la macchina, che fate? La tentazione immediata è uscire come delle furie e urlargli tutto il campionario degli insulti che conoscete, invece no, perché questo sarebbe divisivo, seminatore di odio e di guerra civile. Quindi che si fa? Prima di uscire dal catorcio in fiamma intanto si conta fino a dieci. Poi un po' bruciacchiato uno esce, va incontro al tamponatore a braccia aperte, gli domanda se gli ha fatto male, gli rimborsa sull'unghia il danno al recato e poi si scusa, dice perdoni se inavvertitamente mi sono trovato proprio davanti al suo SUV mentre lei stava arrivando. Secondo esempio per i maschi, state facendo la pipì in un bagno pubblico, arriva un teppista e vi urina addosso. Cosa fate? Gli mettete le mani addosso? No, assolutamente no, sarebbe un'imperdonabile tentazione divisiva. Gli lasciate completare la minzione, non si interrompe una minzione e poi vi congratulate per la splendida mira che ha dimostrato. Terzo esempio per le signore, rincasate anzitempo e trovate vostro marito a letto con un'altra. Che cosa fate? Prendete e abborsettate lui e a unghiate la malcapitata? Non sia mai, sarebbe praticamente guerra civile. Vi allontanate in punta di piedi, zitte zitte, per non interrompere l'amplesso divisivamente. Andate in cucina, mettete sulla moca e quando la coppia ha smesso di gemere, servite a letto un bel caffè fumante senza dimenticare i cornetti alla crema, mi raccomando. Quarto e ultimo esempio. Per le ragazze, siete sull'autobus e un tamarro vi fa la mano morta. Che fate? Rifugite da gesti inconsulti e divisivi tipo dargli un ceffone, chiamare il 113, mettervi a urlare o interpellare il conducente. Pacificatevi invece, ringraziate il nuovo corteggiatore, invitatelo a cena perché solo così in un futuro che tutti speriamo prossimo avrà fine questa annosa guerra civile permanente fra palpeggiatori e palpeggiate. In fondo la pacificazione ha i suoi aspetti positivi. Appena nato il governo Letta, Giuliano Ferrara ha scritto sul foglio, da ora i giudici devono deporre le armi. Non è meraviglioso, è una pacchia fantastica. Se Ferrara ci fa sapere quanto dura l'armistizio e soprattutto la decorrenza e la scadenza, cioè da quando a quando c'è licenza di delinquere impunemente, uno si organizza. Magari prima che i giudici riprendano le ostilità, gli sfila il portafogli, gli strappa l'orologio, gli svaliggia magari pure la casa e lui non può manco lamentarsi perché una lamentella sarebbe divisiva. Potrebbe dire che...